E' mistero a Trinitapoli dove nella notte scorsa, attorno alle due, tre auto sono state avvolte dalle fiamme in via Pardo, nel pieno centro casalino. I tre veicoli erano parcheggiati vicini. L'incendio ha assunto proporzioni considerevoli con una coltre di fumo nero che ha investito anche i palazzi circostanti, costringendo alcuni cittadini a scendere in strada in attesa che le fiamme venissero domate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale di Trinitapoli e i carabinieri. I militari hanno avviato le indagini per chiarire la natura dell'episodio, in particolare se si sia trattato o meno di incendio doloso. Al momento non esclusa alcuna pista. Secondo quanto appreso, gli investigatori avrebbero acquisito anche le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza presenti in zona. L'analisi di quei frame potrebbe essere decisiva per individuare eventuali responsabili. Le auto apparterebbero a cittadini residenti in quella stessa via?